ok buon ciao o un saluto niente ciao fabiola vincitrice del fumettano troppo troppa voglia di spulciare qua siamo a vedere il secondo posto vediamo ok ha preso dead bull un portachiave un segnalibro si è sì fra me ha preso caiba per far condizio di questo è un deck box per i giochi di carte giusto per fare una cosa universale giro vai questo personaggio di trago un pollo variarsi la discoveri immaginavo poi si un portachiave già cosa bella i cartellini di blu l'occhio questo è un altro segnalibro poi c'è freedom che ti consiglio di leggere ma se lo avevi già preso no no ottimo facciamo i primi due volumi anche il poster vabbè un segnapunti di yuki un mazzo di vanguard il gioco che facevano i ragazzi che mostre sono andati poi abbiamo oda di sirisi post night fondazione questa è un bello una bella varia hulk contro conan poi dragon ball con lo shikishi la collanina di pikachu e due spille una di assadona e l'altra di shai e infine flash no vabbè che bella auguri auguri mi fa piacere mi fa veramente piacere commento finale commento finale ok grazie mille per il supporto a dopo ciao dalla vostra fumetteria di fiducia qua siamo con il fratello di federico e che ha vinto il 107 il primo premio della mystery box qua abbiamo il taglierino l'alma che utilizziamo in tutti i nostri spacchettamenti per la prima volta sono gli altri che fanno un unboxing perciò contento un po' di rinforzare le azioni non ci credo nemmeno io vediamo vediamo appassionato ma si vede la maglietta c'è spoiler la maglietta ok a posto imballato per bene secondo me non c'è niente vedete è solo plastica è tutto ok la mano ok si intravede qualcosa si intravede qualcosa vediamo dei personaggi a meno quelli ok ok iniziamo wow star wars a questo è il setto piatto piatto una bella colazione buona niente niente male poi abbiamo una tazza di rezziro che non conosci che non conosco questo era pensato per un pubblico più piccolo anime più manga potete tecnicona questo però ti credo che lo conosci si è cresciuto se ne sente parlare avevi visto su canale cinque tecnici con gli occhiali ok ok poi vedo qualcosa che mi interessa parecchio ovvero un bel funko pop di deadpool in scooter ragazzi che figo è quello quello ho messo il simbolo diciamo italiano della vespa lo scooter bellissimo tanto tanto è uno dei miei preferiti tanto e poi questo l'ulk natalizio con il pacco regalo ragazzi si ho messo un funko natalizio ad ogni ad ogni po per simbolo natalizio ma quanto è bello l'ulk è cattivissimo l'ulk è cattivissimo poi col pacco regalo molto credibile poi vediamo cos'altro abbiamo dei poster di mascio mascio questo è un fotografico fortnite di batman batman che ride batman giochi a portrette no no però conosco batman ok già basta batman quindi ci sta ci sta qui abbiamo qualche manga è giunto il momento anche di iniziare qualche qualche manga questo è l'ultimo volume non mi sembra il caso questo è bello perché ce lo sicchisce una bella variant è questa un'altra variante di free and ren il volume 1 quello è figo si è poi una bella lettura molto molto figo bene bene poi due discovery di moriarty il nemico di Sherlock Holmes e praticamente autori di death note detto non tocchè o siete molto interessante qui e poi per un po voi intenditori eh sì io zaccura family un'altra variante un'altra variante si la faccio pazzo tutte varia del discovery e questo è uno i primi due volumi di quello del poster i primi due volumi va bene poi abbiamo una variante star wars star wars l'alta ok l'alta repubblica ecco avevo finito la parte fumettistica ora vediamo quest'altro troviamo un portadeck ok ok va bene azzurro azzurro un cartellino rosso un cartellino rosso non si sa mai che carino questo è wolverine wolverine è una specie di leggo alla fine si si è molto molto carino c'è lì un battuo per dire che ha ok molto carino e questo avevo nel tempo libero trovo molti molto molto carino abbiamo di star wars le guardie giurati star lo star trooper il hai pure i regali per i prossimi natali con un po di riciclo ci sta continuiamo ok la wals questo è uno scatolo mi piace la sua borsa fuori dalla maria abbiamo vanguard se un'arte di vanguard un mazzo un mazzo un mazzo di vanguard non ti consiglio di iniziare però a scelta 2 poi vediamo altri gadget consiglia jet queste sono tutte gadget fighi cartoline spill questo è bellissimo questo non so se lo conosci slam dunk è un portachiave carino e qua trovi il mini falco di quadro di dragon ball di gol ok il quadro con un portachiave di battle a portachiave di batman che abbiamo andato più o meno se è venuto c'è sa ci sta ci sta questa è tutta la fila di roba e lo so e abbia forse più si manca voi diamo va bene va bene va bene l'importante o grazie mille a tutti un saluto federico se ci guarda grazie mille per averci scelto ci vediamo prossimo video bella